allora chantal buongiorno dico subito quello che facciamo oggi il video sarà un video breve perché già ti ho inviato tutto il lavoro che faremo è un lavoro che portiamo avanti fino a lunedì e parleremo principalmente della famiglia quindi io ti ho mandato un glossario una lista quindi con i nomi che utilizzeremo per fare queste per andare avanti quindi abbiamo questa parte sulla famiglia è un lavoro di gruppo perché ti chiederò di chiedere informazioni attraverso internet a qualche compagno qualche amica così puoi raccontare anche la sua famiglia non solamente la tua questo per lunedì quindi hai tutto il tempo che vuoi per riuscire a farlo oggi e domani quindi lavoreremo sempre sulla famiglia qualsiasi informazione qualsiasi dubbio ti ho mandato anche dei link di alcuni video che aiutano e anche un testo che racconta com'era la famiglia italiana alcuni anni fa quindi mi raccomando qualsiasi informazione sono a disposizione ciao